Stimatissimi Vapors, benvenuti nel mio mondo, permettetemelo, lasciatevi trascinare. Nel fantastico mondo del maestro Franco Camicia. Confezione ormai consona per me, questa di Franco Camicia, italica, con il suo treno a vapore e avanti tutta Franco. Permettetemi di presentarvi la nuova nata in casa italica Box Mode. Questo è il certificato di garanzia con firma data e modello. Al suo interno abbiamo un pin per la tazza sostitutivo, uno ring e una chiave esagonale, quindi anche delle spark part all'interno di questa box. Questa è la nuova evoluzione dell'italica Box Mode. Anche il tastino in questo caso è fatto in legno. Guardate, ha delle lavorazioni veramente stupende. Il logo viene richiamato sul tasto, nella parte posteriore. Queste piccole lavorazioni che sembrano quasi del legno pressato. Le sue dimensioni sono 24 mm il suo spessore. La sua larghezza è di 42 mm e la sua altezza 73 mm. 3.6. Boccetta Super Soft al suo interno, Lukos. Questo nome è una garanzia. Lamelle in argento, pin dorato. Avete anche il pin in acciaio, eventualmente se volete sostituirlo. Come vedete ha un particolare trattamento al suo interno per impermeabilizzare la sezione da eventuale condensa o fuoriuscita accidentale del liquido. E questa è la sua tazza vista dal suo interno. Abbiamo la lama del positivo, perché nelle box di Franco Camicia il positivo viene rivolto verso l'alto, come vedete, dall'isolatore. Poi va in contatto direttamente con il pin. Mentre per quanto riguarda il discorso della parte sottostante, tutta questa sezione qui, con il fissaggio della nostra lama del negativo, questa chiusura o apertura del contatto viene data dal negativo. Queste tazze sono veramente di qualità superiore. Con il pin dorato hanno una reattività che poi vedremo una volta che la attiviamo. Le lavorazioni sono veramente portate con toleranze a zero. Le dimensioni sono piccolissime, ecco l'incisione italica e anche questa volta il tasto è sempre fatto in legno, quindi non utilizza materiali plastici. Ricordo che il nostro Franco Camicia tutte queste lavorazioni interne le fa a mano, o meglio, il CNC non è riconosciuto in casa italica box mod. Quindi queste box veramente sono grande opera di artigianato. Una volta chiusa la nostra box è indubbiamente elegantissima. Guardate, avete tra le mani una pietra preziosa. Bye Franco Camicia. Assembliamo un po' la box, riempiamo la boccetta, tagliamo il tubo in silicone, lo disponiamo, inseriamo una batteria e la testiamo insieme. La boccetta è stata correttamente inserita al suo interno. Devo dire che il silicone con il diametro del pin fa veramente una tenuta molto ferrea, se vogliamo. Quindi boccetta di qualità, pin di un diametro veramente notevole, garantiscono senz'altro che qui condensa o eventualmente fuoriuscita di liquido non ce ne sia. Assicuratevi che la vostra wrap della batteria sia in buone condizioni. Positivo rivolto verso l'alto, andiamo ad inserirla. Inserimento molto semplice. La box già risponde. Andiamo a chiudere. Ed eccola qui, la nostra italica box mod, modello Vulcano Evo. Guardate, io ho un atomizzatore con un valore resistivo di circa 0,5 ohm, valori veritieri. Guardate come risponde questa box. Mamma mia, ha un drop veramente elevato questa box. Non ha una curva morbida per arrivare al massimo della potenza che può dare la batteria in base al valore resistivo, ma spinge da subito. Quindi il suo drop, la sua curva per arrivare alla massima erogazione espressa in watt è veramente assoluta. Sembra quasi che in questo atomizzatore abbia un valore resistivo inferiore a quello che io so di aver installato. Va benissimo per l'MTL, per il flower come faccio io. In ogni caso questa box ha le capacità di portare una spinta ai massimi valori. In questo momento ho una batteria, ha una media carica, diciamo al 50% delle sue capacità. Per farvi vedere che non ci sono dispersioni, ho installato un particolare strumento che utilizzo sulle box di natura meccanica per vedere se tra le lame, la tazza, i vari contatti che ci sono all'interno, ho delle dispersioni. Questo come si effettua? Da due letture che mi vengono date qui nel LCD meter. Mi deve leggere, per essere correttamente senza dispersioni, un valore resistivo di 0,5 Ohm. E dovrebbe darmi all'incirca un voltaggio, questa qui a mezza carica, presumo almeno 3.8 Volt. Ora faccio un'attivazione e guardiamoli insieme. Mi ha dato 0,5 Ohm il valore esatto. Io con questo piccolo strumento sono in grado di stabilire se questa box, i suoi collegamenti interni tra lamella e tazza sono ottimali. Vulcano Evo by Franco Camicia in arte italica box mod. L'eleganza, la praticità, ma soprattutto la reattività di una grande box meccanica in natura BF. Se vi è piaciuto il video, come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale perché voi siete la mia energia, voi siete la mia 18650. E un saluto anche dalle mie mani, Vulcano Evo by Italica Box Mod.